Mia mamma è morta il 21 aprile, mio figlio mi ha preso in braccio per vedere mia mamma morta sul letto, non potevo scendere, è una cosa vergognosa, una cosa vergognosa. La signora Agnese, 54 anni, è forzatamente chiusa in casa da anni. La sua malattia non le permette di scendere e salire le scale ed il palazzo Ater in cui risiede non ha l'ascensore. Una storia drammatica, purtroppo non isolata, fatta di silenzi, rimpalli e denunce inascoltate. Se c'è il mondo a scalco, qualcuno mi porta sotto, se no così non posso fare. Se c'è il mondo a scalco, mi può portare sia la pista o mio figlio, se no così come faccio, non è possibile. Avete fatto richiesta a Regione Comune? Sì, nessuna è domanda. La Regione non c'è soldi e il Comune se ne frega niente. Va bene, così. Io aspetto, se si risolve qualcosa, speriamo. Al suo fianco, in questa drammatica battaglia per abbattere le barriere architettoniche che la rendono una prigioniera in casa sua, c'è da anni il vicepresidente del Consiglio regionale, Domenico Pettinari. Il mio cuore piange, ma sono fortemente indignato. È dal 2015 che sto conducendo questa battaglia a fianco ad Agnese. Agnese è una persona che ha gravi patologie, è segregata in casa, non può uscire di casa perché manca un ascensore. Questo è un palazzo di proprietà dell'Ater di Regione Abruzzo. La Regione basterebbe che stanziasse 30.000 euro, perché tanto costa un montascale e un ascensore, per ridare dignità a questa persona. Oppure un trasferimento in mobilità ad un piano terra e se ne deve occupare il comune di Montesilvallo. Io sono arrabbiato perché ci sono tanti appartamenti a piano terra, anche nella città di Pescara, occupati abusivamente da delinquenti criminali che possono stare lì, che magari sono abbienti, hanno tutte le facoltà necessarie. Persone malate, gravemente, come la signora Agnese, devono rimanere chiuse in un tugurio e non possono uscire neanche sul balcone. Poi non mi venissero a dire che non ci sono i soldi perché quando si è voluto si sono trovati milioni e milioni di euro, una frazione di secondo, per una squadra di calcio, il ritiro di una squadra di calcio e poi non si trovano i fondi per queste persone. Questo è veramente vergognoso, un appello forte al Presidente Regione Abruzzo, Marsiglio, di fare subito uno stanziamento di risorse, trasferirli all'Ater e far installare un ascensore in questa struttura o un montascale. Grazie a tutti.